oggi chi perde peperoncino l'amico di spawn ce la giocheremo al meglio delle tre ogni round perso è un peperoncino e chi perde la sfida sono cinque peperoncini per un totale massimo di sei peperoncini ti piace ragazzi mo tra iardo e vinco io non non esiste che mangiare peperoncini poi muoio capisci cioè se io muoio più profitti per camper vai così il terreno di combattimento sarà head ball un giochino per smartphone gratuito che io giocherò su pc perché il mio cellulare è un po una merda diciamo che se volete il comparto audio camper si sacrifica e giocherà al computer un altro vantaggio per spawn quindi un peperoncino per camper dai pietro cellulare in mano su io ce l'ho già ma il mio giocatore è già un pogba con la maschera di batman il tuo lo vedo ancora piuttosto basic il mio omino è ibra se metti qualcosa indosso a ibra ti sputti un occhio no 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 c'è lì 4 milioni di dollari facciamo dopo tranquillo fidami allora allora vai dov'è spawn il potere li usiamo ovvio 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 a questo voglio poi voglio questo potere e voglio questo non me li hai copiati scusami oh io sono pogba ma regà buongiorno non è fa oh il pallonello vaffanculo ibraimovic ma sono una merda è fortissimo ibraimovic camper 3 a 0 mi dispiace ma le più milioni del mio ma ti piace il piccante no mi fa cagare che bug è stato lagga camper non prende internet a casa tua è per quello che sto perdendo rimatch che rimatch ma che cazzo lagga hai messo il wifi ma che wifi ce ne ha posto qualche lunga 38 cifre non hai messo il wifi non ha messo il wifi super bug ma non vale distrarmi pezzo di fango ancora quanta secondi ma non posso andare via vittoria a tavolino non c'è tipo il cappotto diciamo che a 7 a 1 vinco in automatico ma stai zitto io campero in difesa poteri a casa mia che tu mi picchi mi fai il mio male non arriva in cima non arriva in cima per pallonetto gold aah sciataccio frizzati frizzati anche tu frizzati anche tu bella partita emozionante e fatelo sotto gol ma io per attivare i poteri devo usare il mouse è scomodo ho vinto ho fatto 3 gol io perchè mi sono fatto 8 gol ma vabbè ma mi ripeto io per attivare i poteri devo usare il mouse ma che cazzo vuoi se vuoi se li attivo io comunque troppo forte il potere il potere gigante non arriva volato a testa e rimane il fatto che hai perso 4 a 2 comincia a mangiare il primo le mie prestazioni ne potrebbero risentire in questa partita dai su sbrigati non lo voglio dove hai il latte non c'è guarda se vuoi c'è l'acqua che è peggio me l'hai insegnato tu fai poco la pussi ma tutto in bocca dammi acqua dammi acqua è peggio d'acqua dammi la perchè l'ho masticato dove un gattino e basta dammi la guarda in cucina c'è anche il modem così ti connetti wifi e bevi il latte se vuoi sta facendo ma fa male ma come male un peperoncino fa bene lo dicono tutti i dottori un peperoncino ogni giorno leva al medico ritorno lo dice anche mia nonna mi per favola mi fa male tutto ah acqua momento pausa l'acqua è peggio c'è latte qui scemo di merda bevi bevi questo latte è il latte di trento non può far schifo è parzialmente scremato io non avevo queste cose ma tu vuoi morire ma io con chi devo registrare raga ma con chi devo registrare con uno che non ha già un peperoncino uno allora ci penso io adesso allora chi perde la sfida mangia i ragni no non so con chi devo registrare con uno che non mangia i ragni ah vuoi perdere la sfida la faccio perdere lo sai vengo questa partita per abbandonare l'avversario devo prenderci la mano la prima partita del giorno mi sono fatto due autogol e è finita così che palle no un attimo però io ho messo la maschera di batman come si fa a mettere l'ho pagata 17 milioni eh devi uscire 17 milioni cioè se vai sul negozio e vai sulle maschere le puoi comprare le puoi indossare ah devo dirli indossa ma quante c'è ne sono no ah usare però c'è io voglio giocare con ibra non con un robot c'è qualche tipo il doping si può comprare il doping non comprare il doping questo cos'è? ah più tempo no 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 ma sono superpoteri che si possono sbloccare buona sapersi stadio pieno in questo gioco la gente non paga il biglietto siamo noi che paghiamo la gente per venire tutto ciò ha molto senso raga mi sono ripreso dai ok ora ho pure messo la mia maschera di batman sono imbattibile l'ha detto eh l'ha detto regia? l'ha detto l'ha detto dai ma se guardo lì per vederti no no ma mi aspetta un secondo complimenti giocata bellissima ma sono batman potere continuati spacco tutto sono batman ho fatto tutto il tuo potere no non lo so non lo so non lo so io ti venno a botte io sono batman non mi faccio male ho ooooo bastardo la place no suca suca bastardo non è facile qua da stiera ah si dicono tutti così oh cazzo dovevo aumentare la porta oh no ecco vedi vedi sono rimasto troppo nella mia metà campo e mi da il cartellino giallo e mi congela l'arbitro e non me ne frega un cazzo la tua porta diventa gigante non è lo so il tuo tasto porca puttana dai regà sto tagliando malissimo ce la fa il culo no 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 dai ma che cazzo ha oh vabbè con gli aiuti per i bambini speciali dai molto molti complimenti a lei signor Campe va benissimo così non è facile giocare qua da stiera anche attraverso oh anche salvo da giudico muori no 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 io spacco la tastiera ancora attraversa no che pareggio ma che pareggio che ero sopra di quattro gol Campe ma perchè cinque ti sei fatto gli autogol Campe ma la monta è 4 a 4 ma non è vero era la tua porta quella oh oh adesso tocca a me ma io voglio il replay eh scusatemi era 4 a 4 non è che bisogna stare matematica per tenere il conto dei punti eh lo stop dai su scelgo io sei fuori brigati che voglio darti la ripassata generale questo è obeso tutta la sensazione che quegli obesi non facciano un cazzo e quelli piccoli facciano un male della madonna però ti darò comunque quello grande va bene eh eh dovresti stare di merda adesso ma senti qualcosa si non è vero però un po' mi piace appena messo in bocca sto sputando fiamme porca troia ah ne serviranno cinque a Campe allora direbbe sai cosa una bel tortilla si una tortilla dai dai da accompagnare clicca questo tasto cambiamo un po' i poteri che così facciamo un po' di varietà ora mi ci abatto da Gesù che bello l'immissibilità non serve a un cazzo scoperto comunque pronto? ok questa la faccio perdere questa tra i yardo come la merda e vedi adesso mi sta per congelare yes porca puttana porca puttana ti congelo lo so sono un po' una merda no sei un figlio ma sei veramente un figlio di madre poco nobile oh mamma mia che col no no suca 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 ma mi no che il portiere il portiere no portiere ma cos'è ma è troppo forte quella cosa non riesco ma si fa le para tutte ma non ci credo ma quanto è durato il mio portiere il mio ma stara la ma perchè devi continuare a dare i calci al ghiaccio ah sbagliamo tasse è vero stavi saltando no no stavo usando la z io tiro i calci con la ma oh che cazzo traversa oh questo è buono questo è buono no non rompere le palle GALLEEE col potere ma si è ingrandati la si ma non fa funzionare così sono tre mamma mia quando ti distruggo mamma mia la place 4 a 1 che fuggiato che stavi imbrogliando bastardo aah tutto il sfondamento cazzo ragazzo sto distruggendo la tastiera mamma mia la chiude qua li senti i peperoncini in bocca bonti il ripotenza un po' doppio gol qua un po' doppio gol smettila di urti la famiglia no no vai 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 otto secondi la ragazzo taglia mamma mia sei un bastardo sei un bastardo sei un bastardo sei un bastardo fanculo pezzo di merda buono così buono così siamo 1 a 1 sei a 4 1 a 1 è perchè prima ho vinto ma non do conto perchè sei andato in bagno hai cambiato connessione internet ero la partita di prova si la partita di prova aah quindi caro spawn forse 5 peperoncini per te sono tanti fottiti ne mangi 4 tu e uno io facciamo che almeno 2 li mangi 2 no dai 2 non ci penso di me ma io ma per me mangiarne 1 è come mangiarne 68 abbiamo detto camper gioca col computer farà più fatica probabilmente vincerò io no perchè perchè camper traierda è come lo schifo è il più piccolo ma in camper è il più grande vediamo se vale la teoria che il più piccolo t'ammazza dai no no è andata bene dai si è caduto pure c'è ancora qui aah anche più mangia no no gioca gioca non farlo tu lo stai deglutando come fosse una pastiglia aah che male ma non l'ha mangiato ma non l'ha mangiato ma l'hai ingoiato come una domina e appena mi esploderò in pancia morirò ma io direi che un altro ne puoi mangiare non ci penso nemmeno quindi da spawn dal cap è tutto noi ci vediamo dove quando come ma come non lo so come uno ad un prossimo video questo vorresti mangiarlo non credi? ciao Giova i peperoncini Giova vieni qua un pane di fame